Caterpillar EM, buongiorno, ben trovati. Comincia l'altra settimana. Buongiorno direttore, eccoci, a parte condividere quelli che sono i giudizi degli EM, Homeland era veramente un bellissimo, una bellissima fiction, una bellissima serie, e qui abbiamo una serie altrettanto bella, come la possiamo chiamare? Polveriniland o qualcosa del genere, perché è Lazio Land. Siamo arrivati al giorno del giudizio, forse. Ci siamo? Forse, dipende da quello che decidono di fare i consiglieri dell'Udc. Forse anche Casini si sta convincendo della bontà delle dimissioni, soprattutto sulla scia dei moniti severi giunti dalla Chiesa. Ormai con il nostro ascoltatore è diventato un gioco troppo semplice. Noi ogni volta che chiediamo o facciamo una domanda con detto la parola dimissioni, andarsene, chiudere. Ovviamente è un profluvio di sì e a questo punto io direi quasi stop al televoto. Stop, ha ragione. Abbiamo capito il messaggio. Ha ragione. Beh, sta arrivando l'ondata. Beh, sta arrivando l'ondata. Di che cosa? Dell'antipolitica, la chiamiamo così? No, forse non è giusto. Solo che la casta è bravissima a fare il surf. Finora ci sta riuscendo. Tra l'altro è uscito l'ennesimo libro che ha casta nel titolo, ma è un libro che la casta delle regioni, per l'appunto. Perché ce n'è per il mio libro. L'ho già intervistato l'autore perché la cosa, come sapete, ci interessa molto. La cosa che posso dire io su questo è che sono stupito, come dire, dalla cecità. Perché si sa già da un pezzo che c'è questa onda crescente, si vede come la gente soffra, ci sono stati i suicidi degli imprenditori. Come abbiano fatto a moltiplicare le cosiddette spese di funzionamento del Consiglio regionale con un voto praticamente unanime, naturalmente certificato e approvato da Renata Polverini, francamente non lo capisco. Mi sembra una cosa da pazzi, mi sembra più che altro, qui non è un giudizio, che stiano su un altro pianeta. Perché prima o poi queste cose escano. Voi l'accettereste se per caso Natascia fosse chiamata ad un ruolo pubblico pubblico? L'accettereste un regalo da un'azienda strana, un grosso regalo? Non lo so, mi sembra suicida. Ma lo stesso presidente della Corte dei Conti, Gian Paolino, che dice che comunque noi, appunto, siccome guardano i conti pubblici, siamo abituati a vederne un po' di tutti i colori, però lui stesso è stupito di fronte a quello che è successo nel Consiglio regionale dell'Azio. Sì, ma a volte proprio quando sai che ti hanno in qualche modo inquadrato, che la gente ha capito chi sei, a quel punto tanto vale, cioè ormai tanto sanno chi siamo e comportiamoci di conseguenza. Però, per Ordemagni, ci sono le voci poi distenzienti. Allora, sui giornali avete visto Alemanno, la Sant'Anchea, anche oggi, dice basta, zeriamo tutto. E abbiamo sentito Crosetto poco fa, che è una delle altre voci che nel PDL si distingue e lui ci ha ribadito qui o se ne vanno tutti, li cacciamo, cosa ha detto a calci, una roba del genere. Sì, benché lui però poi in coda abbia difeso la Polverini, nel senso lui dice gente come Fiorito se ne deve andare dal partito, ma secondo me è giusto che la Polverini non si dimetta perché non è responsabile di quello che è successo. Comunque, oggi c'è un interessante sondaggio sulla Repubblica, inizia in prima pagina col titolo Aggrappati all'euro senza amore, il pezzo è di Ilvo Diamanti. Sostanzialmente il numero di italiani che sono favorevoli all'euro si è molto ribassato in questi anni, siamo intorno al 36% adesso, però si lega, gli italiani che ritengono comunque che senza l'euro sarebbe peggio, sono di meno rispetto a quelli che pensano, sono di più rispetto a quelli che vorrebbero uscire dall'euro perché fondamentalmente l'analisi di Diamanti è quella che, così come Monti rappresenta ormai per molti italiani l'ultima ancora di salvezza di fronte a una politica così guastata dal malaffare, dalla mala gestione, anche l'euro sembra essere comunque oggi il male minore. Beh, insomma, su questo almeno ci teniamo la salvezza dell'Europa. Noi siamo poi sempre per andare in Europa perché pensiamo che lì ci sia qualcosa di meglio. Posso farvi vedere una cosa perché questo meriterebbe, cioè un sondaggio racconta anche il grado di informazione, disinformazione che le persone hanno in quel determinato momento di un problema. Allora, già è tanto che ci sia quel numero di persone che difende l'euro, perché l'informazione che gli italiani hanno dell'euro è che ha provocato solo tanti guai. Ora, questo in parte non è vero perché se abbiamo pagato tassi bassi per un periodo questo è merito dell'euro. Ma il punto è un altro. Il punto è che succede se usciamo dall'euro. Questo nessuno glielo dice perché è il punto. Allora, vi faccio vedere sulla Repubblica, sempre sulla Repubblica, una cosa che ha fatto Daniel Colbendì. Daniel Colbendì, per capirci, è stato un leader del Maggio francese, metà tedesco e metà francese, europarlamentare. Ad un certo punto ha presentato una lista verde alle europee in Francia e ha fatto un botto. Ora rompe con i verdi francesi. Con i verdi francesi ho chiuso, Daniel Rosso patetica deriva il no al trattato europeo dei verdi. Perché? Perché vede le cose in un'ottica europea e dire no al trattato senza poi dire che cosa vuoi fare. Torni alla Francia e che fai? Metti tassi doganali, diventi isolazionista. Che fai? Che cosa fai? No, ma non ha nessun senso. Ieri c'è stato un incontro tra Hollande e la Merkel e i due hanno cercato di rinsaldare il patto franco tedesco, più Hollande che la Merkel. Comunque la Merkel ha detto cose del tipo dobbiamo stare insieme per costruire e continuare a costruire la felicità, ha usato questa parola del continente europeo, che è un programma politico. Non c'è una via d'uscita, insomma. Ardemagni anche lei conviene. Assolutamente, lì siamo e lì dobbiamo cercare soltanto di giocare meglio questa partita europea. Con più convinzione e anche ovviamente... Con meno soldi alle banche magari, qualche politica sociale in più. Vede come c'è il grande accordo qui, in questo caso, l'usente Ardemagni, sull'Europa ci ritroviamo tutti, nonostante il raffreddore di Ardemagni. Siccome Natascia ha citato la Merkel con i suoi umori elettorali, vi faccio vedere questa pagina del Corriere della Sera che mostra Helmut Kohl. Helmut Kohl è stato cancelliere per molto tempo, è quello che ha fatto l'unificazione tedesca e ha accettato l'Europa, assieme a Mitterrand l'hanno in realtà costruita nella fase in cui si è costruita proprio l'unione vera e propria. Malato e pirotato dal clan, assalto al mito di Kohl. Il biografo dice che conosco le sue debolezze e le svelerò. La Merkel, che qui vedete in una piccola fotografia con Kohl, era effettivamente la preferita di Kohl, questa giovane donna della Germania orientale, la costruzione della sua unità tedesca che si evidenziava in un leader politico della destra, del suo partito, però poi lo ha mollato perché Kohl è stato coinvolto in una roba di finanziamento al suo partito e senza problemi anche la Merkel lo ha mollato. Ora ne ha molto bisogno perché per convincere i suoi che l'Europa funzioni il mito di Kohl può servire. Sicuramente può servire, anzi ci si appella a quei miti. Non so se in Italia abbiamo un Kohl e una Merkel l'equivalente di... No, non lo so, Kohl, è difficile eh. La ciampia un po' il stato il Kohl italiano sull'euro più che sulla politica forse degli anni precedenti. Tra i grandi uomini che hanno voluto l'Europa ci sono anche degli italiani, c'è Altiero Spinelli per esempio. Ah beh certo, più indietro ancora, certo, certo. Sì sì, chiaro. A proposito di banche e di conti in rosso, sulla stampa di oggi leggiamo che in Grecia potrebbe esserci un nuovo buco nei conti, un buco da 20 miliardi di euro. Ancora? Sì, secondo i calcoli che ha fatto la Troica. E invece, visto che parlavamo di grandi leader politici che hanno lasciato il segno, sempre sulla stampa c'è un'intervista a Bill Clinton che dice ancora quattro anni se lasciamo Barack presidente ce la farà raddrizzare l'economia. E poi parla della possibile candidatura di Hillary che lei invece per il momento continua ad escludere nel 2016 sarebbe la migliore ma sarà lei a decidere. Beh, Hillary nel 2016 ci piacerebbe. Non lo so, quanti anni avrà a quel punto? Questa è la pagina che citava Natasha, siamo proprio su un registro, ragazzi serissimi, dobbiamo essere molto depresi tutti e quattro perché non siamo mai stati così seri. Natasha, dica la volata, Bill Clinton ancora quattro anni e Barack raddrizzerà l'economia. Allora diciamo pure che Monti si incontra con Obama a New York oggi, questa mattina, noi ve lo daremo perché è all'Ox e parla, c'è una specie di summit sull'Italia, sulle riforme strutturali in Italia e poi però incontra Obama. A proposito di... Direttore, cosa faremo per il primo dibattito Obama-Romney? Lo diamo in diretta. Lo diamo in diretta. Su Rai News. Ci mancherebbe. Oh, ci mancherebbe. Senti, un'altra cosa che noi abbiamo detto perché noi facciamo i giornalisti per cui anche se evidentemente preferiamo Obama-Romney, io perlomeno... Noi tutti per Romney, eh? Noi tutti Romney. Faccio il giornalista, quindi facendo il giornalista, la prima cosa che ho detto è guardate che in questa vicenda di Benghazi c'è stata una sottovalutazione gravissima delle condizioni di sicurezza. Ci ricordiamo, sì. Ecco, bravo. Allora, ora la CNN facendo una cosa che ha fatto molto arrabbiare Hillary Clinton ha svelato il diario dell'ambasciatore ucciso e lui dice sono nel mirino di Al-Qaeda, no? Questo dice... E c'è una polemica perché la Clinton dice dovevano dare alla famiglia non dare questo diario in rete e pubblicarlo così come hanno fatto però il problema della sicurezza c'era perché, diciamo, dice l'ambasciatore amico dei libici dice sono nel Stevens, sono nel mirino di Al-Qaeda e insomma questa è una cosa su cui, diciamo, Obama dovrà rispondere, quella della sottovalutazione. L'11 settembre l'hanno ammazzato, ragazzi. Eh sì. Anche se in un pezzo sul New York Times di qualche giorno fa qualcuno che aveva conosciuto, che conosceva l'ambasciatore americano in Libia diceva che lui era talmente amante del mondo arabo e lo conosceva così bene che forse inconsapevolmente lui stesso ha sottovalutato il pericolo. Può essere. Beh, non è che magari siano anche in queste considerazioni che l'impegno che gli Stati Uniti hanno messo in Libia ovviamente non è paragonabile alla situazione adesso in Siria e non... cioè, cosa è successo? Cioè magari ci preoccupiamo più della Siria? No, no, non vorrei che appunto questo tipo di esiti trattengano poi gli Stati Uniti a impegnarsi più radicalmente ad altre parti di quanto stiano facendo in Siria perché poi dopo... Cambiando registro mi è anche arrivata una mail delirante sui negazionisti dice non è vero niente, non c'è stato c'è? l'assalto all'ambasciata tutto falso Gli americani lo sapevano è un'altra costruzione cioè ci sono dei... Ah, una teoria del complotto sull'omicidio di Stevens Sì, sì, sì Cumbia Beh, questa ce l'eravamo persa C'è da dire anche una cosa però, direttore che sia in Italia, che sia in Libia o ai quattro angoli del mondo quando si ammazza qualcuno l'agenda, il diario sparisce poi sempre tutto Ebbè, Borsellino C'è come un déjà vu Sentite, ragazzi, ma parliamo un po' di calcio c'è solo la Juventus E' tracollo E' tracollo, guardi Ardemagni come sta Io stavo cercando di evitare Guardi come sta Ma lo vede, poverino Come quando ti devono interrogare No, dici, dai, dai che suonano la campanella E invece no Ardemagni, cosa puoi dire? Ma io non conosco la fede calcistica del direttore Mineo Beh, non ha fede No, io non ne ho praticamente Ah, lei non ha fede calcistica Sono un infedele Ti posso dire che Poi essendo il direttore deve essere Immacolato E' per la Roma Diventò per la Roma quando era a Parigi Sì, perché aveva bisogno di questa sua identità italiana Lui è romano Giusto E si mise a tifare per la Roma Ora non lo so più Ora l'ho visto andare a giocare a calcio con la magnetta del Paris Saint Germain perché adora pastore Poi, insomma, io sono di Palermo quindi avevo una certa Sì, insomma, sono nei guai perché tra la Roma che non trova e il Palermo sono nei guai anch'io come Ardemagni C'è chi sta peggio C'è chi sta peggio direttore Ma cosa è successo? Ho visto che la gazzetta diciamo a voi interisti vi, come dire, vi salva perché oggi se la prende dice Milano a rotoli ma se la prende in particolare con il Milan tutte e due Milano Entrambe Sì, Milano ma ovviamente il Milan ha tre punti quindi è messo ancora peggio dell'Inter L'Inter però prende valanghe di gol quasi tutti in casa tutti uguali in contropiede Tutto sommato l'Inter e la Juve Fino a due terzi della partita Esatto Hanno fatto la stessa partita un sacco di occasioni poi la Juve ha fatto due gol e l'Inter ne ha presi due Allora cosa facciamo? Cambiamo l'attacco o cambiamo la difesa Ardemagni? A mio avviso il mio parere è che gli uomini che dovrebbero fare i frangifluti davanti alla difesa Gargano in questo caso e Cambiasso sono fuori forma altri sono rotti tipo Mudingai Mariga e quant'altri e quindi bisogna mettere soldi qui Moratti deve cacciare la Lino Non abbiamo soldi austerità No, no, basta Sentite facciamo una cosa parliamo di donne allora vi vorrei far vedere queste immagini del nuovo capogruppo del PDL Chiara Colosimo del Lazio Chiara Colosimo vediamo se la regia ci dà le immagini è una ragazza è molto giovane è di quel gruppo diciamo che il foglio sfotte dicendo dal me ne frego al me frego tutto ma dietro di lei c'erano queste immagini le avete viste all'inizio di un razzista di un cartello che leggiava un razzista nazista degli anni 30 rumeno allora e questo è il rinnovamento che dice Natascia è donna ed è giovane eh sì no allora io dico che non basta ovviamente né essere donna né essere giovane il problema è che devono essere rappresentati entrambi meglio però non basta non è che le donne sono una cosa monolite sono tutte uguali no così come i giovani però questa non è una buona ragione per criticare lei in quanto donna critichiamola se abbiamo da criticarla nelle sue idee politiche in quanto fascista sì voglio dire non in quanto donna o in quanto giovane lei poi oggi ha anche la polverina è una donna a onore del vero poi l'altro tutto la giovane direttore noi in genere giornalisti che siamo dei pasticcioni diciamo neofascista ma no ne ho niente perché qua stiamo ritornando a un prefascista lei però però lei oggi ha detto che lei ha insomma su questa cosa si è poi espressa ha detto che insomma non 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 era assolutamente simpatizzante di quelle idee non aveva letto non aveva letto quella cosa evidentemente a sua insaputa e anziché è assolutamente contro il fascismo contro il nazismo invece c'era quella che leggeva il gobbo la consigliera ah c'era un'altra è vero quella era un'altra ancora intervistata da una rete locale leggeva le risposte già scritte comunque non è che siamo depressi direttore è che ci sono delle notizie ma che lunedì che lunedì ieri mi ha telefonato il mio vice e mi ha detto guarda domani non ti arrabbiare quando vedi i dati d'ascolto perché il nostro diciamo difeso con i denti supremazia sulle altre bellissime news che ci sono in Italia Sky TG24 e TGCom24 secondo il mio vice ieri è stato messo a rischio perché noi abbiamo raccontato tante cose mentre dice che loro davano in continuazione queste immagini che ora vi faccio vedere è sempre di donna si tratta è una donna che sfila no Nicole Minetti no la Minetti no ma l'abbiamo detto stamattina andiamola allora stamattina quando siamo arrivati ho detto a Natascia che era vergognoso la quantità di foto e di galleri che i siti internet dei giornali dei quotidiani serissimi avevano fatto su questa roba qua sulla sfilata della Minetti c'erano centinaia di foto sui giornali più seri del paese per far vedere bene il lato B peraltro pregevole l'abbiamo visto basta ora possiamo tornare in studio ma non è un buon motivo per criticare le donne in quanto tali il mondo comunque è governato capi di stato capi di governo grandi manager delle aziende sono per la stragrande maggioranza in tutto il mondo maschi quindi ah non c'è dubbio e non è che le cose vadano benissimo no no ma infatti ma io dicevo è vergognoso che si mettano quelle Ardemagni Marchionne che è il nostro faro di noi liberisti liberali liberisti non di tutti perché Zingales me lo ha proprio massacrato esatto ma Marchionne lui è d'accordo con il doppio lavoro consigliere regionale del Lazio e e l'altro lavoro della Lombardia e della Lombardia 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 la modella qui andiamo oltre al secondo lavoro perché lei non dovrebbe cioè adesso mi è venuta in mente vedendo quelle immagini una canzone di Cocciante adesso so chi sei e non ci casco più cioè una volta vista sfilare adesso ormai l'abbiamo inquadrata il personaggio però attenzione però attenzione direttore perché qui c'è una tradizione lombarda che lei sfili il problema casomai è che lei riceverà un vitalizio da consigliere regionale quello è un problema però c'è anche una tradizione va anche vista sotto un'altra luce tutto questo fatto perché c'è una tradizione lombarda milanese soprattutto di politici che si mettono in mutande le sfiliate è vero Albertini quella immagine di Albertini con le mutande si chiamavano Libidinus Kashmir era il modello di mutande comunque le 50 foto sul sito del Corriere non c'erano tu le hai guardate quelle della Minetti sì quelle di Albertini volendo raccontare i tre politici alle sfilate Renzi è rimasto vestito come era Albertini in mutande la Minetti quasi senza ma questo in bikini si chiama bikini era un bikini ma a questo punto consoliamoci con una donna serissima e pure spiritosa che dite è anche vestita è qua con noi ci si apone è anche ben vestita ecco mi rivesto eccomi qua Renzi Avarese dice di voler conquistare i leghisti delusi al momento risulta fallito l'esperimento dell'ampolla del sacro fiume Arno e vabbè pazienza sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo il cerchio magico di Renzi arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti